Basta solo avere una buona idea per partecipare a Starti Impresa, il corso gratuito di formazione specialistica che Confindustria Chieti Pescara mette a disposizione di chi, senza limiti di età, decida di avviare una propria impresa. Il termine ultimo per iscriversi all'undicesima edizione del corso è fissato al 10 settembre. Paolo Campana, responsabile di Starti Impresa e vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara, al nostro microfono ha spiegato che Starti Impresa è organizzato con varie tematiche, vari corsi, esattamente abbiamo sei moduli diversi, abbiamo cinque webinar, abbiamo delle attività di follow up nell'ambito di questo corso, in 40 ore di formazione che sono dedicate ad un fil rouge che è il business plan, quindi gli studenti iniziano con mettere i primi tasselli per creare un business plan e successivamente creano il loro business plan. A fine del corso questo business plan viene presentato a un comitato di valutazione il quale poi assegna dei premi interessanti perché ci sono dei premi in denaro per chi arriva diciamo nelle posizioni apicali, ci sono altri premi forniti anche da Confindustria o da sponsor e poi a tutti i partecipanti della selezione finale viene permesso di fare delle attività di pre-screening sia per attività di valutazione dei propri investimenti che di attività diciamo per fare degli sponsorship con criteri che vengono determinati poi da business angel o società di venture capital. Ophelia Carlotti e Daniela Aiello sono due tra i premiati della passata edizione di Start Impresa. Il mio nome è Daniela Aiello e ho partecipato al percorso di formazione Start Impresa 2020 con il progetto Design di Fashion Lab. È stato un percorso di formazione eccellente che mi ha dato tutte le basi necessarie per poter portare la mia idea di impresa a diventare un progetto reale che ad oggi appunto è un'impresa costituita. Io consiglierei questo percorso a chiunque ha un'idea di impresa e vuole trovare gli strumenti necessari per poterla realizzare. Io sono Ophelia Carlotti e ho partecipato all'edizione di Start Impresa 2020. Il programma mi ha permesso di espandere il mio network entrando in contatto con esperti in business, marketing, ma anche con altri giovani imprenditori pronti a mettersi in gioco. Consiglio Start Impresa perché tutte le persone che ci lavorano sono estremamente competenti e tutti vogliono collaborare affinché ogni singolo progetto imprenditoriale diventi realtà.